Tu sei mia? Sì Bene, volevo solo chiarire la cosa, già parlavano in giro, io sono Adam Lo so, ciao Wow, ti piace Yo-Yo Ma? Direi di sì È tipo un soprannome daghetto per caso Yo-Yo Ma Ma? È cinese, non prendere in giro il maestro, è... La sfemo Mi dispiace, scusa Ho dei biglietti per una violoncellista Davvero? Sì, ti interessa? Mi stai chiedendo di uscire? Sì, beh, un amico di famiglia aveva i biglietti e non può andarci Comunque, questo venerdì potrei passarti a prendere Che c'è? Non puoi nasconderti in quella sala prove per sempre È troppo tardi Ti ho scoperta Chris Evans ha smentito le voci che dicevano che avrebbe smesso di recitare Chris ha comunque affermato che il suo piano è quello di terminare i film che sono nel suo contratto con la Marvel E per cui è obbligato per poi concentrarsi a recitare solo nei film che dirigerà E se invece dirigesse lui un film Marvel? Dipende dallo script, spiega l'attore Non importa se è un film da 20 milioni o da 50 Se lo script mi cattura ed è bellissimo, allora lo dirigerò Evans ha appena presentato il suo primo progetto da regista dal titolo Before We Go Curiosi di vedere questo debutto registico? Fateci sapere commentando come sempre qui sotto E io vi aspetto nel prossimo video Ciao a tutti Grazie 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 Grazie